Musica Non ci possiamo permettere di fingere una cosa che è accaduta, ahimè, realmente. Ho detto ai ragazzi non fingete perché abbiamo lavorato su quella che è la motivazione interiore. Presentiamo uno spettacolo molto impegnativo e che ha bisogno di realtà. L'Istituto Comprensivo Politeama ha deciso di ritagliarsi uno spazio e un tempo definito per riflettere in maniera critica e autentica sulle tematiche della Shoah e al contempo ha deciso di presentare uno spettacolo teatrale e anche musicale, i cui esiti saranno portati in scena giorno 5 al Teatro Biondo. In Erwil, Palermo Centro, perché io sono presidente ma sono anche insegnante in questa scuola dal 2007, quindi conosco il lavoro dei colleghi, conosco i bambini, conosco le problematiche del quartiere. I ragazzi benissimi, sono felici. Immagino un esercito di piccolini che improvvisamente diventano dei musicisti. I progetti di alfabetizzazione digitale, di alfabetizzazione musicale, teatrale, sono sempre state un fior all'occhiello dei Rotary. Noi come Rotary Palermo Nord e Palermo Mondello abbiamo sempre lavorato all'interno di comunità a disagio e con l'obiettivo di toglierli dalla strada ma soprattutto di dare un indirizzo culturale forte.